Siamo con Gianluca Battaglia, capitano del San Siro e Simone Bavoni, invece il capitano delle Sequoie, questa sera semifinale di questa Coppa Primavera Calcio 11, dunque siamo giunti alla stretta decisiva, cominciamo da te San Siro, ovviamente conoscete molto bene i vostri avversari e loro viceversa, visto che da tanti anni siete protagonisti del campionato, che partita sarà? Io spero solamente che sia una partita divertente, ci dobbiamo divertire, tirata come è giusto che sia il calcio, per cui un bel divertimento secondo me. Ecco coloro sono sempre autentiche battaglie sportive, insomma cosa ti emette di più del San Siro? Ma loro fanno girare bene palla, sono veloci, sono bravi, niente, noi ci attrezziamo e combattiamo sempre sportivamente. Bene, datevi la mano in segno di Fair Play, buona partita a tutti, grazie. a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Io ho fatto quello manc�no, o anche io ho fatto quello здоровo. Non dico di più. Non c'è nessun PA il FDI, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, Non so se non Motor Energy, augura non spegnare più, no? Sto video con Motor Energy, ok? Cari di più,씨, la pesante da G7 Europe 1. Alla spesso tanti, grazie a tutti, grazie a tutti. Per tutti non solo le piccole e le decorazioni alla fine. Allora, go! Eccolo, basta! Grazie a tutti 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 Calma Grazie a tutti 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 Grazie a tutti